Ma a te, Kenshi, la katana è proprio necessaria. Non puoi separartene in nessun caso. Anche quella volta, il sole del tramonto tingeva il cielo a questo stesso modo. È dopo che hai... che hai squartato tante e tante persone, ormai non puoi più fuggire. Vivere di spada e crepare di spada, per te, bastardo, non c'è altra strada. Un certo uomo mi disse così. Da allora sono passati dieci anni, però ancora non capisco che cosa è il mio potere di fare. Finché non troverò la risposta, porterò questa spada invertita. Prima o poi, tutti quanti continueranno ciascuno per la propria strada e vivranno ciascuno la propria vita. Potrai essere triste, ma è così che va. Però, io vorrei restare sempre insieme a te, Kenshin. Perciò torna da me. Promettimelo, che per quel che accada, ritornerai vivo da me. Tornando qui da Chiodo, nel sentire il bentornato di Madame Gella Cauru, sono stato felice dal profondo del cuore. Persino un uomo come me, ho pensato, se ha qualcuno ad accoglierlo, ha un luogo a cui far ritorno. E per me non c'è altro posto per far ritorno, che qui.